Domenica mattina la Gora Politica cercherà di superare le colonne d'Ercole della scelta, forse decisiva. Le anime del progetto per l'alternativa al centro-destra e all'amministrazione greco sono chiamate alla sintesi. Saranno i grillini, il Movimento 5 Stelle, a tirare le somme e a sviluppare le prime proposte, compresa quella per il candidato a sindaco. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, che ha condotto un giro di verifica tra i gruppi del progetto in essere, farà le proprie riflessioni. Ha già spiegato che non c'è un nome condiviso per il potenziale garante della coalizione da individuare come candidato a primo cittadino. Tra gli incontri c'è stato quello con il gruppo del tavolo dei moderati. Il segretario provinciale d'Italia Viva, Giuseppe Ventura, spiega appunto che come tavolo dei moderati si attende che l'asse PD, Movimento 5 Stelle e Civici, proponga un nome per il candidato a sindaco. Verificheranno se la proposta potrà trovare il supporto di tutte le altre forze. eventualmente un nome del tavolo dei moderati potrà essere indicato se non ci sarà riscontro sul candidato di quell'asse. In ogni caso Italia Viva non indicherà un proprio candidato. Il tavolo dei moderati, che sta seguendo l'evolversi della gora politica, è stato il primo ad inaugurare incontri e confronti programmatici con l'obiettivo delle amministrative. I pezzi di questo contesto politico che mette insieme Renziani, esponenti di Rinnova, socialisti progressisti, noi moderati e liberali si sono ritagliati. Uno spazio rilevante, progressisti e civici hanno cercato di fare da ponte per farli confluire nell'agora. Per ora tutti attendono di valutare i prossimi passi. Secondo Ventura l'interesse principale è legato soprattutto al fatto che il candidato trovi un pieno supporto e che non determini l'allontanamento di altre forze. In questa fase i moderati non pensano troppo al piano B. Per quanto riguarda eventuali contatti con le liste aree Arspino Federico o con l'MPA, Ventura riferisce che ci sono stati abboccamenti. C'è l'idea di un'area fuori dai due blocchi, magari con forze del centrodestra, che non si rivedono in quel progetto, però incontri ufficiali non ce ne sono mai stati.